Riprendono le manifestazioni per il lavoro a Napoli, stanno sfilando in questo momento gruppi di disoccupati della lista BROS, Napoli è una città che ha bisogno di lavoro, ha bisogno di iniziative concrete, certo non di toponomastica che probabilmente è l'ultimo dei pensieri e dei problemi che affliggono la città, probabilmente chi amministra la città avrebbe il dovere di dare maggiore attenzione a queste esigenze anziché fare passerelle a dir poco inutili se non prive di qualunque sostanza. La città ha bisogno veramente di urgente bisogno di lavoro, ha bisogno di dare risposte a queste famiglie, la città deve andare avanti e non va avanti certo cambiando nomi a piazze e strade, va avanti con iniziative significative volte alla massima occupazione. Questa è una delle tantissime manifestazioni che si sviluppano quotidianamente per le vie della città di Napoli. Purtroppo c'è una grossa distrazione o disattenzione di chi ha il dovere a tutti i livelli, chiaramente noi non ci rivolgiamo a uno solo, ma a chi ha la responsabilità politica di dare risposte significative a queste famiglie. Sono probabilmente presi o distratti da altre sicure cose, probabilmente altrettanto importanti, ma credo che la battaglia per la vita, la battaglia per il lavoro, la battaglia per la sopravvivenza non abbiano priorità. Per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano. Grazie per la visione!